Per fare il nostro risotto, salsiccia fresca e carciofi ci occorrono 150 g di salsiccia fresca, 2 carciofi tagliati fini, soffritto misto, 1 spicchio di aglio, vino bianco, olio e 240 g di riso. Prima di tutto in una padella mettiamo un po' di olio. Mettiamo 2 spicchi di aglio, e soffritto. Dopo un paio di secondi mettiamo la salsiccia e il carciofi. Dopo un paio di secondi mettiamo la salsiccia sul frigere. E lascia costruire. Aggiungi 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 il resto mettiamo il cartone e lasciamo soltricere adesso aggiungo 240 grammi di miso e la faccio tostar e la faccio tostar e la faccio e la faccio tostar e la faccio e la faccio e la faccio e la faccio la faccio e la faccio tenere la faccio cu i Ora facciamo un po'ccello. Ecco qua, il nostro risotto calciofi e salsiccia feca, pronto per servire. Cotto e mangiato. Ciao! Ciao! Ciao!